A tutti bentornati sul canale traduzione canzone e canzone spiegate e bentornati a coloro che guardano il video per la prima volta in questa puntata andiamo a parlare e a tradurre una canzone di una stella nascente della musica statunitense che si chiama Sabrina Carpenter che ha scritto questa canzone che potrebbe diciamo essere catalogata come tormentone estivo hit estiva 2024 a livello europeo perché è una canzone che tormenta è un tormentone e ipnotizzante se voi sentite ritmo che ti entra proprio nella testa è proprio ipnotizzante questa canzone questo è l'aggettivo giusto e quindi lei è anche al numero 5 in classifica Spotify delle cantanti più ascoltate quindi è veramente sta esplodendo è stata portata in tournée da Taylor Swift in tutto il mondo quindi è considerata anche dalle sue colleghe come veramente una star e quindi ha vinto lei e la canzone possiamo dire posso dire che a livello di traduzione è di bassissimo livello proprio questo aggettivo giusto basso livello è veramente imbarazzante quasi però se è un tormentone alzo le mani e facciamo i complimenti facciamo la standing ovation per Sabrina Carpenter che tra l'altro lei nasce come attrice e non come cantante e dopo il cantante diciamo la carriera di cantautore di cantautrice arriva in un secondo momento perché lei comunque è giovanissima ed è 99 a 25 anni e quindi è già ha già grandissimi numeri veramente grandissimi numeri e niente quindi questa canzone è uscita il 12 aprile 2024 appunto abbiamo detto è salita la ribalta grazie all'interpretazione di Maya Heart nella serie Girl meets World è tornata con un nuovo brano in grado di dare la carica infatti l'espresso è considerata una metafora di come le donne possono essere rivitalizzanti per gli uomini come lei si immedesima come un diciamo una botta di vita come un espresso che ti dà la carica perché è proprio così il caffè espresso è questo di cui parla lei è proprio del caffè italiano quindi senza mezzi termini si intitola stesso appunto ed è un genere pop ha dichiarato di aver scritto il testo della canzone durante un soggiorno in Francia influenzato dalla gioia e dalla citazione che sono un bel viaggio sono in grado di regalare si quindi è stata diciamo fulminata ha avuto questa ispirazione durante i suoi viaggi per il mondo ecco la canzone esprime la sicurezza della cantante dettata dalla consapevolezza dell'effetto corroborante che esercita sugli altri in particolare su un individuo del quale è sicura avere ogni attenzione e che proprio come se avesse bevuto un caffè espresso non riesce a dormire pensando a lei la canzone ruota attorno al al vedere la femminità come un superpotere e di avere piena fiducia nell'abbracciare l'idea di essere una ragazza cazzuta tra parentesi ecco quindi questa è la giusta premessa per questa canzone che la possiamo appunto introdurre con la traduzione e che sentite l'ha espresso allora inizio dicendo now he's thinking about me every night quindi ora lui mi sta pensando tutte le notti is it that sweet? I guess so quindi è una domanda è così dolce? Io suppongo di sì say you can't sleep baby I know D dice che non riesci a dormire tesoro io lo so that's that me espresso sono proprio sono proprio io l'espresso che non ti fa dormire muoviti su giù destra sinistra switch it up like nintendo cambia cambiati cambia posizione come come con nintendo say you can't sleep baby I know dici che non riesci a dormire tesoro lo so that's that me espresso quindi questo è quello che sono io sono un espresso I can't relate to disperation non riesco a relate collegare mettere relazione riferire quindi non riesco a relazionarmi con la disperazione my give a fucks are on vacation quindi i miei ci frega i miei frega un cazzo tra parentesi sono in vacanza and I qui non voglio sbattimenti and I got this one boy e ho questo e ho questo unico ragazzo and he won't stop calling me che non vuole fermarsi di chiamarmi when they act this way quindi quando to act vuol dire agire comportarsi quindi quando si comporta in questa maniera I know I got them so di averli so di averli presi in pugno too bad your ex don't do it for ya peccato che il tuo ex non non faccia per te worked in a dream came true it for ya ha camminato in un sogno che si è che poi è diventato realtà per te soft skin and I perfume it for ya pelle soffice e io sono profumata per te I know I mountain dew it for ya quindi mountain dew è ho fatto una ricerca ed è una bevanda gassata preferita dagli americani che contiene caffeina quindi rimaniamo sempre nell'ambito del effetto caffè dell'effetto non dormire dell'effetto rivitalizzante quindi io so che io sono come una mountain dew per te that morning coffee brew it for ya quel caffè mattutino allora to brew vuol dire produrre birra produrre un infuso così quindi quel caffè io l'ho proprio posso dire l'ho proprio macinato per te one touch and I brand new it for ya e un tocco e un tocco e tutto nuovo di zecca diventa per te newed appunto nuovo e io faccio tutto nuovo per te I'm working late because I'm a singer io lavoro fino a tardi perché sono una cantante he looks so cute to wrap around my finger allora to wrap vuol dire avvolgere completamente quindi sembra così carino che lo tengo tra le mie dita quindi è proprio che lo tengo proprio nelle mie mani ecco questa secondo me è la definizione giusta my twisted humor make him laugh so often twist vuol dire attorcigliare, avvolgere, intrecciare quindi mio umorismo contorto un po' diciamo attorcigliare, si contorto lo fa ridere molto così spesso my honey bee come and get this pollen bee è l'ape e pollen è il polline quindi mio dolce ape vieni a prendere questo polline ecco questa è la canzone veramente basica veramente pop proprio allo stato cristallino ecco di Sabrina Carpenter che ha avuto e sta avendo un grandissimo successo in tutte le classifiche europee e mondiali quindi a standing collection se con una canzone del genere si riesce ad avere milioni e milioni di visualizzazioni e milioni di nuovi follower di nuovi seguaci alziamo la mano per Sabrina Carpenter siamo tutti con te quindi il nuovo tormentone 2024 diciamo international è questo senza ombra di dubbio e sentite attentamente perché è una canzone che anche se non ha un significato profondo però è ipnotizzante ha un ritmo che ti coinvolge ecco quindi ti ha scattato attentamente e anche in modo che si possa soltanto anche capire una canzone una parola in più in inglese e ascoltare appunto a tutto volume questo è il mio consiglio e se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale traduzione di canzoni e canzoni spiegate per continuare insieme questo percorso di traduzioni di canzoni in questo caso inglese ma anche di altre lingue e anche in italiano per capire il significato e in retroscena che hanno spinto questi grandi artisti a scrivere di capolavori ma anche meno capolavori appunto per capire cosa li ha spinti a scrivere questi testi che rimarranno nella storia della musica internazionale ed italiana anche ecco questo è il mio percorso di traduzioni di canzoni capire il significato della musica che è la mia passione e di un'altra passione imparare nuove lingue e niente quindi questo è tutto e ascoltate attentamente la diciamo quasi teenager ormai 25enne Sabina Carpenter e mi direte come 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 vi sembra questo testo sicuramente l'avete già ascoltata ai radio o su Spotify quindi mettete la palla Sabina Carpenter con Espresso per il momento è tutto alla prossima ciao Ciao